Ibrahimović vuole Antonio Conte! Basta con la mediocrità, basta con i pioli, basta con questi allenatori mediocri, l'unico ancora Furlani che bisogna convincere è quello che giustamente vuole prendere un po' di risposte a questo progetto, vuole capire. Furlani, vedi non rompere i coglioni perché Moncada e Ibrahimo capito tutto, abbiamo bisogno di Conte is on fire, basta Pioli, basta la mediocrità, finalmente vogliamo alzare la sticella, Ibrahimo capito come si deve fare, mandare a casa il mediocre. Lo ringrazio di tutto Pioli, non ce l'ho con Pioli, lo ringrazio di tutto, per lo scudetto, per i quarti di finale, non solo merito suo anche di Ibra e Maldini, però grazie di tutto, grazie di tutto Pioli, ma è ora che ti togli dei coglioni, il Milan ha bisogno di fare il Milan, tutto qui. Zatran Ibrahimovic, noi vogliamo Antonio, noi vogliamo Conte, Zatran Ibrahimovic.